Nel 2008 è stato siglato un accordo con Antigua per l'urbanizzazione di quel paese. Perché devono pagare i milanesi? Si parla di strutture, anche di ponti aerei, commerciali? Mi chiede cose che non conosco. Ma sul sito del paese, sul sito di Antigua c'è? Del governo di Antigua c'è? Lo domandi dal governo di Antigua. Io sinceramente non so di che cosa parla. Io sinceramente non so di che cosa parla.